...al vertice della classifica del campionato di Serie B, guardate che cosa combinò Federico Giampaolo, un assolo strepitoso, poi il tentativo di Di Giannatale, il gol giustamente di Federico Giampaolo. Staiarditana a 0 per scala 2, 95-96, 13 gennaio, Milano, al vertice della classifica del campionato di Serie B, guardate che cosa combinò Federico Giampaolo, un assolo strepitoso, poi il tentativo di Di Giannatale, il gol giustamente di Federico Giampaolo. Staiarditana a 0 per scala 2, 95-96, 13 gennaio, Staiarditana a 0 per scala 2, 95-96, 13 gennaio.